Buongiorno a tutti Il festival dei corti con una giuria ricchissima mi dicono perché c'è Massimo Ilcese mi pare No sto scherzando Accorrete numerosi perché secondo me ci sarà da divertirsi Mi dicono che arrivano piccoli film dei corti un po' da tutto il pianeta Non solo dalla regione Liguria o dall'Italia ma da tutto il pianeta E quindi sarà un'occasione per vedere cosa pensa l'umanità dell'umanità in tutto il mondo Venite Grazie 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 Grazie